CODE EMOTION CODE EMOTION 4-5 progetti cosiddetti responsive, quindi applicazioni HTML5 ottimizzate per dispositivi mobili, ma non solo dispositivi mobili, anche large screen, quindi smart TV tanto per intenderci. La prima è di metodologia, perché abbiamo visto che bisogna veramente essere molto precisi e bisogna seguire un workflow molto strutturato, altrimenti si rischia di dover buttare gran parte di quello che si è fatto e ricominciare addirittura da capo. Questo è il primo concetto, il secondo riguarda tecniche e consigli su come migliorare le performance dell'applicazione, perché questo è un altro argomento delicatissimo per quanto riguarda lo sviluppo su mobile, perché è veramente diverso rispetto allo sviluppo su web. Quindi vorrei che vi portaste a casa questi due concetti e cercherò di trasferirvi nel più breve tempo possibile. Io sono Marco Casario, sono il CTO di Comteist e mi occupo appunto di portare avanti dei progetti con il nostro team interno. Lavoriamo soprattutto su clienti come vedete dalla slide Enterprise, quindi veniamo dal mondo Enterprise, Banking, Finance e in questi mondi vi assicuro che le performance e i load time sono davvero importanti come tematiche. Questi sono gli ultimi due libri che ho scritto sulle tecnologie di cui oggi parleremo, HTML5 Solutions e CSS3 Solutions. Mi hanno dato quelli della DelayPress, una copia qui che poi a fine talk vedremo un attimo di trovare un modo per regalare. Tengo due corsi in collaborazione con Comteist e il Code Emotion, tengo due corsi che trovate pubblicati sul sito training.codemotion.it, sul sito di Comteist. Uno si chiama Rich Web Application con HTML5 e un altro è dedicato al Responsive Web Design con HTML5 e CSS3 e JavaScript. Ora, sono già un paio d'anni credo che parlo di tematiche che riguardano il mobile e questa slide l'ho cambiata perché c'era scritto l'anno scorso, forse due anni fa, il web sta cambiando. Il web è in realtà cambiato. Questa slide è del 2010, addirittura era la slide che ha pubblicato Business Week in cui da una ricerca di Morgan Stanley si vedeva come a fine 2011 la vendita di dispositivi mobili, tablet e smartphone ha superato la vendita degli desktop. C'è stato anche un altro sorpasso, quello degli utenti che navigano il web. Oggi gli utenti che navigano il web utilizzano più i dispositivi mobili rispetto al classico desktop. E il web possiamo quindi dire che a tutti gli effetti è uscito dal desktop. E' quindi fondamentalmente una sentenza di morte per quanto mi riguarda pensare di creare un contenuto che dovrà andare sul web e che poi, senza pensare che poi dovrà essere fruito anche su risoluzioni o su schermi molto più piccoli rispetto al classico 1280 o 1024. O viceversa su schermi invece molto grandi, le smart TV adesso sono già in vendita, sono una realtà, LG, Samsung, Sony hanno già fatto entrare dentro le case di tantissime persone questi device. Avrete forse visto il talk di Stefano Sanna sulla Google TV. Insomma, cominciano ad esserci tantissimi device. E non pensate che l'uso dei dispositivi mobili è veramente esclusivo ad un contesto particolare, ad uno scenario particolare. Vi faccio un esempio, io uso più, navigo più sul web quando sto a casa usando i smartphone, i tablet rispetto a quando sono in giro. Perché magari sono sul divano, perché magari sono in cucina o sono da un'altra parte e non mi va di andare a prendere il desktop e apro quel contenuto sul primo device che mi capita. In tasca o sul tavolo ho un tablet o uno smartphone. Quindi non pensate al mobile esclusivamente come accesso in scenari di mobilità. Sul web trovate una pubblicazione molto interessante, statistica, su come gli utenti utilizzano l'accesso ai contenuti su dispositivi mobili. Quali sono quindi le nostre opzioni fondamentalmente? Abbiamo direi quattro opzioni divise in due tipologie di approcci. L'approccio store nativo, quindi creare l'applicazione utilizzando o linguaggi operativi nativi come Objective-C, Java per esempio, deployandola sullo store Apple o Android, o creare un'applicazione ibrida utilizzando per esempio HTML5, JavaScript, strumenti, framework come PhoneGap. Però sempre passando per lo store. Da questa parte qui invece alla mia sinistra abbiamo un altro approccio, un approccio che vede il rilascio dell'applicazione esclusivamente sul web e o con un approccio ottimizzato, ovvero mi creo una versione completamente diversa, completamente ottimizzata della web application solo e esclusivamente per dispositivi mobili. Quindi creerò la versione ottimizzata per tablet, creerò la versione ottimizzata per smartphone. Oppure, ed è l'approccio di cui discuteremo oggi, l'approccio responsive, ovvero creerò l'applicazione affinché sia responsiva o adattiva. I puristi usano diversamente questi due concetti, adaptive responsive application, ma effettivamente sono sinonimi, quindi li useremo come sinonimi qua. Quindi applicazioni responsive, voglio dire, intendo dire applicazioni che hanno la caratteristica di ridisporre il proprio contenuto e adattarsi all'area all'interno, alla dimensione dell'area all'interno della quale sono caricate. E ci sono tanti pro e contro, sicuramente a scegliere un approccio rispetto ad un altro. L'approccio nativo è quello più costoso, è quello che sicuramente mi permette un controllo perfetto perché posso accedere a tutte le funzionalità fisiche del device, ma richiede anche team di sviluppo dedicati, il team di sviluppo dedicato per Objective-C, quindi IOS, il team dedicato per Android. È molto costoso, alcune aziende ovviamente possono permetterselo, altre no. L'approccio mobile ottimizzato, quindi l'approccio che va sul web, non passa per gli store, ma distribuisce il contenuto sul browser, ma in una versione completamente ottimizzata, ha due difetti fondamentalmente. Uno è di manutenzione. Io avrò due, tre, quattro siti, a seconda di quanti ne creo e ne ottimizzo, che devo manutenere. Quindi ad ogni cambio che devo fare sul sito web principale, dovrò andare poi a cambiare i siti ottimizzati. E un'altra problematica è invece la problematica di condivisione sui social network. La CNN fino a poco tempo fa aveva una versione, ma anche la BBC aveva una versione del sito ottimizzato per mobile, su addirittura un dominio, un sottodominio diverso, m.cnnm.bbc. e che cosa succede se gli utenti leggono l'articolo sul tablet o leggono l'articolo sul mobile, quindi stanno caricando la versione ottimizzata, prendono il link e lo condividono su Twitter o su Facebook. Quel link magari viene aperto da un vostro follower o da un vostro amico da Facebook sul desktop. Quale sarà l'esperienza di quest'utente che aprirà su una risoluzione di 1280 magari un sito ottimizzato a 320? Questa è un'altra problematica da tenere in considerazione. Per questo motivo il movimento, perché così possiamo chiamarlo, del responsive web design sta avendo molto successo in questo periodo. È un fenomeno nato nel 2010, maggio 2010, coniato il termine da Ethan Marcotte, che fece un articolo su un sito famoso a lista part, un sito dedicato ai fogli di stile, ai CSS, al web design in generale. E ha definito il responsive, ha dato una definizione, secondo me, migliore di quella che attualmente trovate su Wikipedia. Perché lui dice che il responsive web design non è un design per dispositivi mobili, ma non è nemmeno un design per dispositivi desktop. È semplicemente un approccio che permette di avere un contenuto flessibile, adattivo, indipendente dal device. Quindi questa è una definizione molto importante, tra parentesi mutuata dall'architettura. Esiste il concetto di responsive architecture. C'è un video stupendo su Vimeo, se cercate responsive architecture e Festo in particolare, comunque il link qui lo trovate poi sulle slide che vi distribuiranno, è bellissimo perché avete queste strutture rigide, sono dei muri che hanno la capacità di adattarsi in base al contenuto, ovvero alla quantità di persone che stanno fisicamente dentro la stanza. Quindi riescono ad ingrandire, diciamo almeno come effetto ottico, ma si deformano proprio. C'è un video che lo fa vedere, mano a mano che la stanza cresce in numero di persone che contiene. Quindi è da qui che viene mutuato questo approccio. Sul web, che cosa succede? Succede questo, che partendo dalla mia destra abbiamo il nostro sito web, la nostra web application, che da un monitor 27 pollici viene visualizzato, a parità di contenuto, viene visualizzato su un tablet, landscape, orientation landscape, orientation portrait, quindi sempre un tablet, smartphone con i due orientamenti. Si tratta dello stesso contenuto, quello che cambia è solo la modalità con cui questo contenuto viene visualizzato all'interno della pagina. E perché questo approccio sta avendo un discreto successo? Perché è veramente difficile, come diceva il maestro Yoda, prevedere il futuro. Il futuro nel nostro ambiente è sempre in movimento, ed è verissimo per i device mobili. Abbiamo tantissima frammentazione, e se pensate che il primo tablet della Apple è uscito nel 2010, quindi stiamo parlando di tre anni fa, guardate già quanto è frammentato il mercato dei dispositivi, che continuano a uscire con una velocità ormai devastante. Quindi è impensabile di poter star dietro a questa velocità in termini di sviluppo, quindi aggiornamenti, modifiche, nuovi rilasci e così via. Non possiamo pensare, come dice la slide, di creare una versione ottimizzata per ogni dispositivo che uscirà sul mercato. Cominciamo a parlare un po' di tecnologie che fanno parte, degli ingredienti che fanno parte di questo approccio allo sviluppo. HTML5. Anche qui andrò veloce perché è veramente tanto che parliamo di HTML5. Ormai è tra noi, è inutile dire sì, ma manca ancora tanto, le specifiche non sono chiuse. Innanzitutto le specifiche, saprete, non sono più state dichiarate chiuse, non saranno più chiuse nel 2022. Il V3C inizialmente aveva detto che la roadmap prevedeva la chiusura nel 2022. Le specifiche saranno invece chiuse a settembre del 2014 di HTML5.0 e nel 2016 di HTML5.1. Questo permette già oggi di utilizzare HTML5, però in modo intelligente. Queste sono le macro aree sulle quali hanno lavorato il V3C, ma non solo perché non è l'unico organo, il V3C, che lavora alla documentazione di HTML5, introducendo le nuove API, quindi dalla semantica, CSS3 al multimedia, il device access, performance, offline storage, connectivity, grafiche 3D. Ogni area, ogni macro area ha poi delle sotto aree. Queste per esempio sono le top 5 features in termini di feature per dispositivi mobili che oggi abbiamo già a disposizione, geolocation, offline application, CSS3, media queries, video e audio, canvas e webgl. Queste oggi sono già supportate dalla stragrande maggioranza dei dispositivi mobili sul mercato, nemmeno di ultima generazione. La cosa importante da capire è questa. HTML5 è vero, è tra noi, nel senso che ormai è supportato dai browser moderni, però ci sono tante piccole cose che ancora non sono supportate, è una realtà questa. Quindi bisogna pensare ad HTML5 con un approccio incrementale. Non potete pensarlo nella sua interezza, prendere qualsiasi API disponibile e cominciare a scrivere la vostra web application utilizzando quelle funzionalità. In questo modo vi troverete sicuramente male. Partite invece dalle macro aree già ampiamente supportate. La semantica, il consiglio che do sempre, se non sapete con cosa effettivamente cominciare con HTML5 per la vostra web application, cominciate dai tag della semantica, cominciate dai web form 2.0, cominciate da quelle cose che sono già ampiamente compatibili. Quali sono le strategie quindi per sposare questo nuovo approccio allo sviluppo, allo sviluppo di web application? Innanzitutto bisogna aver chiaro in mente un paio di domande e quindi capire quali sono le risposte di queste domande in base ai contesti. Gli utenti web che navigano dai dispositivi mobili hanno effettivamente bisogno dello stesso contenuto degli utenti che navigano il web dal desktop. Questa è una domanda molto importante che si porta dietro tantissime scelte dal punto di vista sia della user experience ma soprattutto dal punto di vista delle informazioni che volete veicolare. Faccio un classico esempio, guardate questa pagina di Repubblica, è un articolo, io probabilmente ho cliccato su quest'articolo, sto sul desktop qua. Questa è l'unica area che a me interessa veramente. Il contorno, a parte il menu di navigazione, è tutta pubblicità. Bene, ritengo piuttosto impensabile poter proporre, declinare, offrire all'utente questa stessa user experience su un dispositivo mobile dove magari devo stare attento ai K, al page sites, a quanto è grande la pagina, ai tempi di caricamento. Quindi queste due domande insieme a quella appunto se è più corretto pensare che l'utente seduto davanti al desktop può digerire più informazioni rispetto all'utente sul cellulare, sono quelle che mi devono guidare nel momento in cui progetto il sito web, non nel momento in cui lo sviluppo. Nel momento in cui lo sviluppo queste decisioni devono già essere state prese in maniera molto molto chiara. Bisogna conoscere quelli che sono gli obiettivi degli utenti finali, quindi domandarsi come l'utente navigherà quel contenuto, in che modalità, ovviamente in termini, sicuramente in termini statistici. Questo è il workflow che noi abbiamo piano piano ottimizzato e stiamo utilizzando in Comteist. Appunto è un cross screen web app workflow, nel senso che è un workflow che abbiamo visto funziona per questo tipo di applicazioni, che abbandona il vecchio concetto, quello in cui il web designer creava un visual, una grafica, un layout web in Photoshop, lo passava agli sviluppatori che cominciavano a ritagliarsi tutto, a montare l'HTML e poi piano piano a metterci la logica sopra. Questo approccio non funziona nel mondo del responsive web design. Quindi quali sono invece gli step che abbiamo visto funzionano e lo abbiamo visto sulla nostra pelle, nel senso che per arrivare a questo workflow abbiamo dovuto veramente fare tanti cambiamenti in corso d'opera. Prima di tutto capire le domande a cui ci facevamo prima, capire che cosa è importante per gli utenti. Crearsi immediatamente un application map per aver chiaro la navigazione che l'utente dovrà compiere all'interno dell'applicazione. Creare dei mock-up a bassa fedeltà. Mock-up a bassa fedeltà può voler dire metterli su carta disegnandoli con penna o strumenti digitali. Noi usiamo balsami mock-up, costa molto, lo produce un italiano, è un esempio di successo, funziona benissimo. Una volta prodotti questi mock-up a bassa fedeltà, c'è anche Proto.io che è un altro software molto carino perché lavora molto con i dispositivi mobili, tra parentesi. Faccio rapid prototyping, ovvero passo con i mock-up a bassa fedeltà vuol dire non avere ancora gli stili grafici della mia web application. Passiamo immediatamente a costruire il mock-up senza la logica HTML5 più CSS, niente di più. Quindi mock-up fluido, ricordate di questa parola ci torneremo sopra. Mi creo il prototipo rapido, veloce, qui già vedete applicati degli stili ma non deve essere così granulare la rappresentazione e comincio a fare il testing sui dispositivi. Quindi passo dai smartphone a 320, 54 pollici, 5 pollici, i 7 pollici, orientation, landscape e portrait, vedo sul 10 pollici come si comporta il contenuto e comincio a pensare, a valutare, fare un'analisi su come dovrà disporsi il contenuto e se ha senso proporre tutto il contenuto su tutti quanti i tipi di dispositivi. Faccio un ciclo di revisione, quindi a fronte di questa riunione avrò buttato giù un'analisi, ciclo di revisione e creazione dei visual. Quindi questi feedback vengono passati di nuovo all'user interface expert, al designer, al web designer, chiamatelo come volete, il quale comincia a creare i visual ad alta fedeltà, vuol dire la grafica fondamentalmente, si apre Photoshop, ha i mockup a bassa fedeltà quindi già sa gli elementi di interfaccia che dovrà creare, dovrà solo aggiungerci gli stili e conosce anche le varie declinazioni sui vari dispositivi, perché già gliele abbiamo trasferite quelle informazioni. Mi passa i visual finiti, creo il markup ancora, ricreo il markup questa volta con gli stili grafici applicati, senza logica, HTML5 e CSS3 e questi sono alcune tipologie di layout con approccio responsive. Se le guardate da destra a sinistra vedrete che cosa, che cosa sono queste colonne, questi blocchi verdi che si ridispongono. Sono il layout della mia applicazione sul web, è il layout della mia applicazione sul tablet, smartphone, anzi tablet orientation portrait e smartphone. Che cosa cambia in queste quattro rappresentazioni? Solo come vengono disposti dei blocchi, sono le griglie, è l'approccio a griglie, che è l'approccio che devono seguire i web designer se vogliono creare in maniera strutturata il loro layout. E questo è l'esempio di quel layout pattern applicato al sito del AIDS.gov che è un sito responsive e che usa questo tipo di layout sul desktop, tablet, landscape portrait e smartphone. Poi test del markup su device mobili, quindi rifaccio il test del markup con i visual e gli stili applicati, quindi lo metto su web e me lo carico su tutti quanti i dispositivi, sto al settimo passaggio. In questa fase comincio ad aggiungere elementi di logica e a fare i primi test di performance e di lot time. È in questa fase che già comincio a vedere come a pulire un po' il DOM, a fare i CSS stress test, a applicare le, a minimizzare i CSS e quel poco javascript che ho scritto. E poi, in perfetto stile agile, migliora, implementa e applica refactoring. Questo è il workflow che stiamo utilizzando e vediamo funzionare su approcci responsive. Quindi gli ingredienti quali sono? Layout fluidi, questo è il punto di partenza. Non cominciate a lavorare se non avete un layout fluido. Fluido vuol dire si ridispone in base all'area, alla viewport del browser, quindi non fisso, non con risoluzioni assolute in pixel. Immagini e media flessibili, un altro aspetto molto importante e delicato sul responsive, e le media queries. Queste sono le famose griglie di cui parlavamo prima, è il famoso approccio che devono usare i web designer. C'è un libro fantastico, si chiama ordering disorder, grid principle for web design, che parla di come impostare i layout con questo approccio, dichiarando che questo tipo di modalità aggiunge molto ordine e struttura ai layout. Quelle griglie verranno poi utilizzate dagli sviluppatori quando dovranno andarsi a riscrivere i CSS. Immagini adattive. Ci sono già molte soluzioni, il V3C ha già dato una proposta, una soluzione per poter creare immagini adattive. Che vuol dire immagini adattive? Vuol dire fornire agli utenti, in base al dispositivo sul quale stanno caricando il sito web, immagini con risoluzioni diverse. È impensabile passare la stessa immagine all'utente che carica da desktop e all'utente che carica da smartphone. La dimensione sarà sicuramente minore ovviamente, allora perché passargli tanti K inutili? Ed è molto importante questo aspetto soprattutto quando ragionate sui retina display, sui display ad alta densità dei nuovi dispositivi. Quindi la soluzione del V3C la trovate su responsiveimagines.org, sfortunatamente è solo una proposta, ancora non è uno standard. Ci sono soluzioni alternative che usano librerie client-side o server-side, ce n'è una molto semplice, si chiama adaptiveimagines.com, è fatta in PHP, è veramente banale e l'abbiamo utilizzata in alcuni contesti e ve la consiglio perché è di una banalità, anche se non conoscete PHP riuscirete ad applicarla. Vediamo poi i media queries. Le media queries sono davvero semplicissime, tra parentesi ce le portiamo dietro già da CSS2, non sono un'enorme novità. Sono state però aggiunte delle nuove funzionalità, in particolare guardate qua, guardate questa scrittura, end, min, width, 960 pixel. Qui sto dicendo che tutti gli statement CSS che verranno caricati all'interno di questo blocco risponderanno a questa condizione, quindi verranno applicati solo se la risoluzione minima dello schermo è di 600 pixel. È con questo approccio che io cambio il layout al cambiare della risoluzione. La potenza è che posso usare anche condizioni logiche, posso usare l'end e il not, quindi posso aggiungere e sottrarre condizioni. Le media query possono essere embeddate nello stylesheet o importate nel documento come foglio esterno come un classico CSS, sono lo statement CSS alla fine. Con il link, questa è la dichiarazione all'interno del file CSS embedded e questo è il richiamo con il link. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Allora, con la modalità, con la media query embeddata nello stylesheet, vengono caricate dal browser tutti quanti gli statement CSS, anche se non vengono utilizzati quegli statement, ma faccio una sola chiamata HTTP. Con le media query si importate come foglio esterno, di nuovo vengono caricati tutti gli statement, quindi da questo non vi salvate con soluzioni client side, ma le chiamate HTTP sono tante quante sono i fogli di stile che avete creato. Una delle regole principali nell'ottimizzazione delle applicazioni per mobile sono la riduzione delle chiamate HTTP. È la prima cosa su cui dovrete lavorare. Quindi, sapendo questo, probabilmente potrebbe essere preferibile in molti contesti usare questo approccio, quello dell'unico CSS grande con tutte le dichiarazioni dentro. Tanto poi CSS possono essere minimizzati, possono essere rimpiccioliti, addirittura compilati adesso, quindi poi si riesce a lavorare molto sull'ottimizzazione del singolo file. Questa è un'indicazione che vi ho dato prima, non cominciate a lavorare sulle media query se non partire da un layout fluido, perfettamente fluido. È un lavoro che probabilmente non riuscirete nemmeno a portare a termine. Quali sono quindi gli approcci? Gli approcci, ci sono fondamentalmente due approcci, l'approccio mobile first e l'approccio desktop down. Dipende dal contesto. Alcune volte è più giusto, è più corretto scegliere l'approccio mobile first, che è l'approccio che parte dalla schermata più piccola, dalla risoluzione più piccola e poi piano piano fa crescere il layout fino alla risoluzione più grande. Il desktop down fa esattamente il contrario. C'è un bookmarklet che vi consiglio di scaricare, si chiama Responsive Design Bookmarklet, che vi aiuta proprio in questo gioco. Il mio consiglio è lasciatevi guidare dal contenuto, ovvero, guardate, vi faccio vedere un'applicazione, una pagina web, che poi è stata la demo che abbiamo realizzato durante il workshop che abbiamo avuto l'altro ieri. Qui ho, vedete, rimpicciolito al minimo la finestra del browser. Qui sto a circa 400 pixel. E vedete come si dispone il mio layout, no? È ampiamente leggibile. Immaginate questo come un iPhone o uno smartphone Android. Quindi ho il menu facilmente cliccabile, in verticale, ho l'H1, forse lo potrei anche rimpicciolire, è un po' troppo grande questo H1. Comunque ho il titolo, poi ho il titolo di una ricetta, ho gli ingredienti, ho la foto, eccetera, eccetera. Vado giù, ho un sottomenu, commenti, primi piatti, eccetera. Che cosa succede se comincio ad allargare? Qui le media qui li sono già scritte, quindi il comportamento vedrete che cambierà, no? Allora, sotto, innanzitutto si sono ridisposti, non sono più verticali, ma la parte sotto adesso è orizzontale. Purtroppo la risoluzione qui stiamo a 800x600, vediamo se posso fare così per farvi vedere se lo posso fare. Ho ingrandito ancora un po', che cosa è successo? Questa parte qua, che prima era una sotto l'altra, adesso si è affiancata. Ho questi blocchi, primo blocco, secondo blocco, terzo blocco e quarto blocco. Se continuo ad allargare, mentre allargo che cosa scattano le media query? Se continuo ad allargare, che cosa è successo? È scomparso qualcosa, vi faccio vedere infatti, che tutto quello che stava sotto, qui sto a circa risoluzione 1000 pixel, tutto quello che stava sotto è andato sulla sidebar, perché adesso ho più spazio per visualizzare quel contenuto, non deve essere verticale. Qui ho il menu è cambiato, avete visto lo stile del menu è cambiato, non è più verticale, abbiamo un menu orizzontale. Ho tutto quanto il contenuto continua ad essere visibile, sotto ho ancora la rappresentazione, se riesco a crescere ancora un pochino. Vi faccio vedere, succede un'altra cosa, si è successa. Vedete, il testo adesso non è più sotto l'immagine, ma si è disposto su due colonne. Ho utilizzato la proprietà multicolumn dei CSS3. Tutto questo lo abbiamo realizzato con le media query. Se io vi apro il CSS, queste sono le media query che dichiarano gli statement CSS al variare della proprietà min width o max width del mio schermo. E CSS non c'è niente di fantascientifico, lo avete sempre scritto. Questa volta quello che vi promettono di fare i media query è dichiarare a questa risoluzione fai questo, a quest'altra comportato in questo modo. Vi capiterà sicuramente, avrete sicuramente la tentazione di utilizzare dei framework CSS. Ce ne sono tantissimi in giro, centinaia. Sono framework fondamentalmente che danno delle best practices e delle regole per ottimizzare i tempi di produzione e di sviluppo applicazioni responsive. Ovviamente ne esistono centinaia, però possiamo diciamo declinarli in tre macro categorie. User interface framework come bootstrap di Twitter, un framework per i responsive di Twitter. Framework omnicomprensivi come Foundation 4, Gambli, Gambi o YAML e framework minimali come Skeleton, Base, Cube e Goldilocks. Ora qui la domanda è framework sì e framework no. Perché ho messo la foto del McDonald? Perché mi trovo molto semplice spiegare se utilizzare un framework o meno utilizzando il concetto del franchising. Scegliere un framework significa sicuramente ridurre i tempi di sviluppo, quindi i project manager saranno contentissimi. Significa non dover reinventare la ruota ogni volta. Significa usare uno standard, magari anche ben scritto e non è sempre vero, non vi fidate di tutti i framework perché ci sono anche framework pessimi. Usare uno standard e delle convenzioni nello sviluppo. Molto comodo se abbiamo un team grande di sviluppatori, perché almeno come project manager o come team leader so che verrà utilizzata esclusivamente una, definiamola una grammatica. Ok? Quindi ci sarà coerenza nel codice perché l'approccio usato è quello del framework. Non avrò ogni sviluppatore che decide lui come scrivere il javascript, come scrivere il css. Quindi usarli o non usarli? Innanzitutto fatevi una lista di obiettivi. Capite bene se in base ai vostri obiettivi e requisiti esiste un framework che vi aiuta veramente. Perché tante volte ho visto gente usare team di sviluppo usare dei framework che poi effettivamente facevano l'1% di quello che gli serviva. Era più la customizzazione che dovevano scrivere rispetto alle funzionalità che di cui usufruivano. Imparate, esplorate il codice. La cosa buona dei css framework è che il codice è aperto. Quindi esploratelo, vedete come sono state scritte le informazioni. depurate il codice che non vi serve. A volte ci sono framework molto pesanti ma ripeto a voi serve solo una piccolissima parte. Cancellate tutto il resto e usate solo la parte che vi interessa. Ottimizzate il peso della pagina. Scegliete quello che è più vicino al vostro approccio perché come il franchising, usare un framework vuol dire sottostare alle regole del developer che lo ha scritto. Quindi non potete aprire un McDonald e poi dirigerlo come un pastarito. E la stessa cosa è esattamente con i framework, identica. E se proprio non riuscite e non vi piace nessun framework, usate il vostro. Createvi il vostro. E leggete bene il licensing perché ci sono dei framework che sono open ma non vi permettono poi magari di rivendere il prodotto che avete costruito basandovi su quel framework. Esplorate. Ce ne sono tanti, avete la possibilità di imparare tantissimo. Aprite il codice, guardate, studiate, vedete come gli altri sviluppatori si comportano per risolvere alcune problematiche. Magari voi avete soluzioni migliori. Non sottovalutatevi perché vi assicuro che ci sono dei framework che sono pessimi. Responsive Web Design sta nascendo un altro filone che si chiama Responsive Server Web Design che è una tecnica che usa sì il Responsive Design ma lascia, delega alcune funzionalità al server. Quindi il server genera il codice, magari manda il CSS o manda le immagini o manda il video già ottimizzate per quel dispositivo. È un altro approccio ma ovviamente è un approccio che non usa solo il client, richiede comunque la scrittura di codice back-end. Vi do solo un paio, due soluzioni. Una la conoscerete se sviluppate su mobile è Wurful, molto famoso. Ha librerie per sviluppare in PHP, .NET, nei maggiori linguaggi, Java, eccetera. E Modernizer Server, che fa quello che fa la libreria Modernizer sul client client, la fa però sul server. Ora, performance and low time, è l'ultima parte del corso ma per quanto mi riguarda è la più importante. Velocemente, la studio di ricerche, mi sembra che questa studio l'ha fatto Google, su dispositivi mobili, mentre è in movimento l'utente si aspetta di caricare le informazioni in due secondi. Dopo il terzo secondo il 40% degli utenti abbandoni il sito. Dopo il quinto, qualcosa come l'80-85% se ne va dal sito. E 5 secondi vi assicuro che sono un attimo. Vedrete dopo dalle slide che ci sono alcuni dispositivi non troppo moderni, che impiegano 6 secondi solo a parzare jQuery mobile. Addirittura Amazon ha dichiarato, è riuscito a calcolare che ogni volta che fa un update, una modifica al proprio sito e aggiunge 100 millisecondi di tempo di caricamento, quindi aggiunge delle informazioni dei byte che si traducono in 100 millisecondi in più, ha calcolato che le vendite di quella pagina decrementano dell'1% e per Amazon immaginate questi sono numeri immensi. Pensate quanto è importante l'ottimizzazione per questi dispositivi. E il responsive web design vi assicuro che può drammaticamente impattare sulle performance dell'applicazione, perché è un approccio che se usato male vi farà creare, avrete file CSS enormi, file DOM HTML enormi, tantissima logica JavaScript, immagini e elementi multimediali enormi anche per dispositivi molto piccoli. Guardate questo grafico, è stato fatto uno studio aprendo i siti dal sito mediaquery.es, che è un repository che raccoglie tutti i siti responsive, sono stati aperti e testati questi siti, questi sono il page size per risoluzione. Quindi guardate quanto poco varia il peso di immagini e media da dispositivi 320 a dispositivi 1600x1002. Cioè questo dovrebbe stare qua questo grafico. Qui vuol dire che stiamo facendo caricare all'utente sull'Apple o sull'Android lo stesso identico contenuto in termini di peso della persona che lo apre a 1600x1200. È ovviamente impensabile. Quindi che cosa possiamo fare? Quali sono le primissime cose da fare? Sono semplici e banali, mi vi assicuro che facendo consulenza in tanti clienti le vedo applicare pochissimo. La prima cosa è pulite il codice, il DOM, pulite l'HTML, a volte si usano tag HTML ridondanti che non servono a nulla e sono solo figli di un ciclo di sviluppo infinito e male impostato. Quindi cominciate a pulire il codice. Rimuovete tutti gli statement CSS orfani. Se lanciate questo, c'è un tool su SitePoint, si chiama DustMeSelectors, lo lanciate, vi dice quanti sono gli statement CSS orfani che sta usando la vostra pagina. Se lo lanciate su pagine molto grandi, tipo su siti di Adobe, di Microsoft, riceverete centinaia e centinaia di statement che non vengono mai utilizzati. Quelli sono tutti byte. Guardate che quando lottate con i millisecondi, cioè quando cercate di ottimizzare i millisecondi, ogni byte fa la differenza, ve lo assicuro. Quindi misurate le performance dei CSS 3, c'è uno stressing tool, si chiama CSS Stress Testing and Performance Profiling. Ci sono degli statement nuovi in CSS come il Box Shadows, il Box Reflection, insomma ce ne sono altri per le animazioni, le transizioni. Sono molto intensivi dal punto di vista delle CPU, quindi vuol dire caricamenti lenti e soprattutto consumo della batteria altissimo. Minimizzate i vostri CSS, vuol dire che ci sono dei tool che vi permettono di togliere tutti, quando andate in produzione, i commenti, gli accapi, gli spazi, non servono a nessuno. Quella roba serve solo quando sei in sviluppo e quindi hai bisogno di leggere o aggiungere cose. Quindi minimizzateli, ci sono compressori CSS. Usa il link invece dell'import, perché il link permette il download parallelo di più file. L'import è invece sequenziale, finché non viene caricato uno statement, è finito di caricare e non viene caricato il successivo. Il link invece permette download multipli. Ottimizzate l'uso delle immagini, ci sono tantissimi compressori PNG e usate la tecnica degli sprite soprattutto per le icone. La tecnica degli sprite è quella che, piuttosto che rilasciare le immagini, immaginate un set di icone per il menu, invece che rilasciare 5 icone per il vostro menu, ne rilasciate una con i CSS e poi usate delle tecniche per spostare l'intera bacchetta, spostare la X e la Y per posizionarvi sull'icona che volete mostrare. Una tecnica vecchissima, non è niente di nuovo. Qual è il vantaggio? Le chiamate HTTP. Fate solo una chiamata, non fate 4 chiamate HTTP. Qual è il problema di queste chiamate HTTP? Perché lo tiro sempre fuori. Perché il protocollo HTTP ha un limite enorme. Ad ogni request e response viaggiano tantissimi byte che non servono a nulla all'applicazione, se li porta dietro lo user agent. Quindi dobbiamo limitare le chiamate. Usate la tecnica del data URI. Non so se lo sapete ma voi potete per le immagini dichiarare non l'immagine ma direttamente la sua rappresentazione in base 64. Soprattutto per le immagini piccole come icone o voci di menu, cose del genere. Usate dei software per fare la conversione. In questo modo vi evitate la chiamata HTTP. L'immagine viene immediatamente caricata senza fare la chiamata HTTP. Cercare di usare font icon, ovviamente per icone molto semplici. C'è un progetto che è molto carino, si chiama iconmoon.io. A volte con i font riuscite ad ottenere icone anche molto molto carine. Quindi sono sempre K che si risparmiano. Comprimete le immagini. Ci sono compressori. Poi le slide tanto le avete a disposizione quindi i link ve li potete andare a vedere, non vi preoccupate. JavaScript. Ottimizzate la logica delle applicazioni. Evitate l'uso del level che è terribile, devastante. Cercare di evitare l'uso del width perché è molto intensivo come processi. E se sapete che l'errore si verifica sicuramente non usate il trycatch. Perché se si verifica, gestitelo, no? Il trycatch è molto richiestivo. Quindi evitatelo. Soprattutto se sapete che l'errore si verifica. Se potete, se avete la possibilità, pubblicate i file JavaScript, quindi i media esterni JavaScript e CSS su un dominio, su un subdomain del vostro sito. Quindi su, che ne so, resources.miosito.it. In questo modo permettete il caricamento parallelo delle risorse. Ok? Questa è un'altra cosa molto semplice ma che riduce drasticamente il low time. Minimizzate il JavaScript e offuscatelo. Riuscirete a risparmiare tantissimi K. Applicando queste semplicissime regole, guardate rispetto agli originali. Quindi CSS 11K, l'improvement con questi pochi accorgimenti del 39%. Guardate qua le richieste, quindi le chiamate HTTP. Originariamente erano 22, siamo passati a 9 con una riduzione di quasi il 60%. Parliamo alla fine del progetto di svariati secondi, non di un secondo. Usate le network API di HTML5 per andare a capire che tipo di connessione ha l'utente e far comportare l'applicazione diversamente in base al tipo di connessione. Fate tantissimi test, usate Charts che vi permette di fare il throttling HTTP, vi permette di simulare lato client, connessioni più lente rispetto a quella che state utilizzando. Da una pagina di profili potete crearvi per esempio una connessione 3G, UMTS, Edge e caricare dal client in locale il sito simulando quel tipo di velocità. Evitate i redirect, alcuni dispositivi si impallano con i redirect, cercate di evitarli perché innanzitutto il sito sarà più SEO friendly per i motori di ricerca, ma soprattutto non ne mettete più di due se proprio siete obbligati a farlo. Attenti al touch, il touch rispetto al click ha un ritardo che varia tra i 300 e i 500 millisecondi. Utilizzate l'evento on touch al posto del long click. Parsare JavaScript richiede tempo, può arrivare fino a 100 millisecondi per un K, quindi la domanda è, vi serve veramente un framework? GQuery come vi dicevo prima impiega quasi 6 secondi su vecchi dispositivi ad essere caricato. GQuery Mobile non è un framework ottimizzato per mobile, questo io lo dico da circa un anno che lo vado a evangelizzare, non è una versione ottimizzata, è GQuery che usa le core, GQuery UI è un framework di user interface, quindi vi dà l'interfaccia grafica pronta per i dispositivi mobili, ma è pesante quanto GQuery, che non è uno tra i framework più leggeri. Valutate invece microarchitetture JS, Zepto JS che noi usiamo e con cui la quale ci troviamo bene, ci troviamo molto bene, usa lo stesso approccio di JQuery in 6K e non nei 70-60K di JQuery minimizzato. Se usate JSON, ricordatevi il metodo JSON parse che è due volte più veloce della funzione Eval di JavaScript che comunque dovreste evitare. Usate l'application cache in HTML5, è un file che passare attraverso il manifest con il quale potete salvare in locale le risorse della vostra applicazione anche su smartphone e tablet. Stesso discorso per i local storage e queste sono le max persistent sites che avete sui vari dispositivi, quindi 200 MB per iOS 5.1, 4 MB, 4 MB, 20, 85, ovviamente all'utente verrà chiesta di accettare la possibilità di scaricare in locale le risorse che voi state ricercando di fare. Però insomma, come vedete, diciamo che per il mobile si considerano 2 MB, però avete a disposizione molte più informazioni. Performance test, usate Yahoo Slow, Web Page Test e usate la compressione JZIP lato server. È un modulo apaci, non c'è niente di difficile ad attivarlo, vi riduce di parecchi punti percentuali il peso delle pagine. È una stupidaggine applicarla e l'ho vista applicata pochissime volte. Usate gli speed tool di Google, sempre per fare performance, sono moduli back-end e lo user interface compressor di Yahoo. Con questo compressore, guardate, JQuery, versione 1.6 da 98K è passato a 55K, semplicemente lanciando il tool, con un risparmio del 44%. Qui c'è solo una lista di microarchitetture e microframework JavaScript. Vi consiglio questo sito, MicroJS, che altro non è che un repository di micro librerie JavaScript. Gli scrivete la funzionalità che state cercando per una determinata libreria e lui vi dice la libreria corrispondente in JavaScript. È l'ultima slide, emulatori. Ne esistono tantissimi, alcuni sono gratis e altri sono a pagamento. Da questo link ne sono elencati tantissimi. Fate attenzione ad una cosa, l'emulatore è solo il primo test che potete fare, non potete andare in produzione dopo l'emulatore. Dovete provare dentro ai browser dei dispositivi mobili, perché succedono delle cose incredibili quando caricate l'applicazione dentro Chrome, dentro Safari, nei vari dispositivi tablet e smartphone. Quindi purtroppo la spara di Damocle per quanto riguarda i responsi web design è proprio questo. Testing, 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 un sacco di refactoring e riscrittura. Ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti.